Il calcio che si fa veicolo di iniziative solidali, come il dono di un tiralatte al reparto di pediatria dell'ospedale Bonomo da parte di alcune vecchie glorie della Fidelisandria. Un gesto reso possibile grazie al ricavato raccolto dalla vendita del libro AmaVenge, che racconta la compagine biancazzurra più forte di sempre. Si tratta di un progetto editoriale realizzato dal giornalista Raffaele Garinella in compagnia del collega andriese Giuseppe Ernesto e di due vecchie glorie biancazzurre, ovvero il portiere Nicola De Bitonto e il centrocampista Renato Olive, ai quali si sono uniti nel bel gesto di solidarietà anche Mario Lemme e Gianmarco Frezza. A noi fa piacere contribuire, contribuire per una giusta causa. Questa idea è nata una sera tra me e Renato e Raffaele Garinella, poi dopo abbiamo coinvolto anche Peppino Ernesto, è stata un'idea bella, coinvolgendo, un'esperienza bella, poi soprattutto c'è una finalità importante, aiutare il prossimo. Un libro che ripercorre la storia di un gruppo di uomini, prima ancora che calciatori, dal forte legame con la Fidelisandria e che dominarono il campionato di Serie C1 nella stagione 96-97, riportando in città quell'entusiasmo che si era affievolito dopo la retrocessione dalla Serie B l'anno precedente. Protagonisti di quella risalita immediata in cadetteria furono anche l'allenatore Giuseppe Papadopulo, il direttore sportivo Guido Angelozzi e la famiglia Fuzio proprietaria del club. Io credo che sia stata una delle migliori Fidelis, a parte il risultato finale, ma anche perché, e questo lo dimostra nel tempo ancora, è stata una squadra fatta di atleti di un certo spessore, ma soprattutto di grandi uomini. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto al reparto di pediatria dell'ospedale Bonomo di Andria. Con i primi proventi raccolti, gli autori del progetto editoriale sulla gloriosa Fidelis hanno donato uno strumento utile per sopperire ad alcune situazioni di difficoltà per le mamme nell'allattamento del proprio figlio. Il tiralatte serve a risolvere delle situazioni in cui ci siano ingorgo mammario, oppure qualora il bambino sia ricoverato in incubatrice e la mamma non si possa alzare, è un primo approccio per poterlo poi attaccare al seno, per allattarlo. E dato che il latte materno è sempre il miglior alimento per l'uomo, per il cucciolo d'uomo, praticamente è veramente un'iniziativa lodevole. Un gemellaggio molto significativo tra sport e salute, destinato a rinsaldarsi con altre iniziative di solidarietà. All'evento ha partecipato anche una delegazione dell'attuale Fidelis Andrea, con il direttore finanziario Pietro Lamorte e quattro calciatori biancazzurri, che hanno donato una piccola maglia della Fidelis con il numero uno, perché i bambini vengono al primo posto, come ha sottolineato Lamorte, e la frase AmaVenge, titolo del libro, nonché motto di quella gloriosa squadra del 96-97.